National Geographic Esplora, informa e preserva Da sempre con una visione responsabile nei riguardi del nostro pianeta In un mondo dove il consumo globale di energia aumenta ogni giorno Ogni nostra scelta quotidiana, anche la più piccola, può fare la differenza Per questo dobbiamo lavorare tutti insieme per trovare delle soluzioni Per questo National Geographic incontra Aruba E il suo data center che viene alimentato solo grazie ad energia prodotta in equilibrio con l'ambiente Inaugurato nel 2017, Global Cloud Data Center alle porte di Milano È il più grande data center campus di Italia Ed è stato interamente progettato da un team interno Per questo le grandi performance nell'efficienza energetica sono motivo di orgoglio Per alimentare il data center viene usata energia autoprodotta localmente Grazie ad una centrale idroelettrica sul fiume Brembo E a migliaia di pannelli fotovoltaici sulle coperture Il resto dell'energia necessaria viene prelevato dalla rete Ma sempre e solo con certificazione di provenienza 100% da fonti rinnovabili Inoltre un sistema geotermico permette di raffreddare i server nelle sale dati con grande efficienza Eliminando gli sprechi e riducendo al minimo l'impatto ambientale Per Aruba il tema energetico e quello ambientale sono di massimo interesse L'attenzione posta nella progettazione e nella realizzazione di una struttura così grande e potente E che consuma molta energia può davvero fare la differenza L'innovazione tecnologica, la rivoluzione digitale e il domani Ci pongono continuamente di fronte a nuove sfide Ma anche a nuove opportunità Conciliare il futuro e lo sviluppo con la sostenibilità ambientale È una priorità per National Geographic E offrire un IT davvero sostenibile lo è per Aruba E offrire un IT davvero sostenibile lo è per l'innovazione